Ministero. Onorificenze per chi si è distinto nel mondo del lavoro. La cerimonia in prefettura a Milano dove c'è in diretta per noi Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Si è appena conclusa e sulle note della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone qui nei giardini della prefettura di Milano la cerimonia di consegna delle 28. Onorificenze al merito della Repubblica che sono concesse dal Capo dello Stato. Personalità, dicevate che si sono distinte nei campi dell'arte, della cultura, dell'economia, del sociale per i servizi svolti nelle carriere civili e militari. Presenti qui la regione, il comune, città metropolitana, una cerimonia che non si era potuta svolgere finora a causa dell'emergenza. Coronavirus, oggi mascherine e distanza nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Fra gli insigniti e con il titolo di commendatore il cantautore Roberto Vecchioni. Il suo pensiero oggi proprio a Ennio Morricone e anche al campione di handbike Alex Zanardi che ancora è in ospedale dopo l'incidente. Abbiamo intervistato anche il prefetto di Milano Renato Saccone perché qui oggi in prefettura la prima cerimonia pubblica della fase 3. Sentiamo allora le voci che abbiamo raccolto e poi la linea tornavo in studio. In genere si tiene il 2 giugno, non abbiamo rinunciato, abbiamo atteso, lo facciamo con tutte le cautele, ma ci sembrava giusto riconoscere in pubblico il valore delle persone insignite dal presidente Mattarella. Il mio pensiero va sempre ad Alex Zanardi, alla sua vita, ai suoi problemi, alle sue cose e sono vicinissimo a lui. Morricone incarnava la musica perché era quello che diceva non esiste jazz o musica sinfonica o musica classica, esiste bella musica e brutta musica e lui la faceva solo bella.